Si è tenuto ieri ad Auletta una passeggiata dedicata all'ambiente, con lo scopo di sensibilizzare gli adulti del domani al rispetto e alla tutela del territorio. La giornata, organizzata dalla Proloco, è iniziata alle ore 18 e ha visto coinvolti tanti bambini, e non solo, a esplorare, pulire e conoscere le bellezze del proprio paese. I bambini, muniti di guanti, scopino e paletta, hanno ripulito il centro storico aulettese, imparando tra un vicolo e l'altro anche la storia di un borgo antico, fatto di tanta tradizione. Tutto ciò è stato reso possibile grazie anche ai racconti e alle storie riportate dagli anziani lì presenti nel borgo. La giornata ha dato uno spunto ai bambini di porre domande curiose sull'ambiente e sulle usanze di un tempo, come la coltivazione di grano e ortaggi, al fine di avvicinare tutti a un ambiente più sano e sostenibile.